Scegli un colore Con questo colore potrai vedere la posizione delle persone Non male Tesoro, visto che puoi localizzare le persone, puoi chiedere dov'è tuo padre Spero che non sia ancora il casino a spendere tutti i soldi Dov'è papà? Allora, che ti ha detto? È ancora lavoro, sta facendo gli straordinari Nicola, puoi dirmi dov'è il mio ragazzo? Non mi risponde al telefono Pensavo avessi chiuso con lui dopo che ti ha tradita Sì, ma l'ho perdonato Dov'è Edoardo? Mi dispiace Elena, è a casa di Sara Tesoro, sto preparando la pizza, tra poco è pronta Ok mamma Pronto? Tesoro, ecco ora da lavoro, dieci minuti e arrivo Mamma, ma non sei già in cucina a fare la pizza? No La pizza è pronta Come faccio a scegliere tra mia madre e il mio ragazzo? Questo è troppo, deciderò più tardi Ehi amore Di colpo, che colpo, mi hai spaventato Vabbè, stasera andiamo al cinema quindi? Eh, non riesco, ho allenamento Ok, ok, non importa Andremo un'altra volta Mamma, dimmi, sono a lezione Amore, voglio presentarti una persona Alle 18 ti aspetto a casa Ok, a dopo Ora devo andare Ragazze, volete venire a cena da me stasera? Mi piacerebbe, ma devo andare a casa Mia mamma mi ha già avvisata Ok, non ti preoccupare Mamma, sei a casa? Quindi chi mi vuoi presentare? Tesoro, eccomi Voglio presentarti il mio nuovo fidanzato Cosa? Mamma, ma lui è il mio ragazzo Mamma, ma lui è il mio ragazzo Corso il mio ragazzo ун Grazie a tutti.